Un calcio all'altezza delle ginocchia da parte di un calciatore della scuola di casa che ha protestato in questo modo per il cartellino rosso estratto dall'arbitro, un giovane fischietto della sezione Aia di Arezzo. La partita è quella del campionato di terza categoria tra Castel San Nicolò e Forti e Sarezzo. Al settantesimo sul punteggio di 4-0 per gli aretini accade il fattaccio. L'arbitro, dopo essere stato colpito violentemente, decide di fischiare anticipatamente la fine del match, mandando le due squadre negli spogliatoi. A questo punto sorge un interrogativo. Secondo i dirigenti della Fortis, che a fine partita hanno parlato con l'arbitro, potrebbe essere omologato il 4-0 frutto del poker di Massimiliano Pecorari, sempre più capo cannoniare del campionato. La giustizia sportiva potrebbe invece optare per un 3-0 a tavolino che toglierebbe quindi al bomber della Fortis le reti e il record di marcatura nel campionato. Si tratta ovviamente di dettagli che non cancellano un brutto episodio che nulla ha a che vedere con lo spirito del calcio dilettantistico. Non è da escludere una denuncia da parte dell'arbitro che nel frattempo è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.